Il Ministero del Lavoro ha recentemente reso noto il rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie 2023, una fotografia degli andamenti del mercato del lavoro attraverso i dati che sono stati rilasciati sui rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato. L'analisi dei dati complessivi dice molto sul nostro mercato del lavoro. Malgrado l'attuazione del PNRR sia ormai in fase avanzata, il Paese è ancora lontano da quegli obiettivi di incremento dell'occupazione e di miglioramento della qualità del lavoro.